Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono Giulio, volevo fare la recensione di una commedia che è per uscita in streaming su Amazon Prime Video, che è Una gran voglia di vivere, nuovo film di Michela Andreozzi che vede il protagonista Fabio Volo e Vittoria Puccini, rispettivamente nei ruoli di Fabio Volo, Marco e Anna, sono una coppia sposata da un sacco di tempo, hanno un figlio e la loro relazione è in crisi, Anna manifesta chiaramente la voglia di lasciare il marito, gli aveva proposto di, così, per dare nuova vita, un po' una nuova spinta alla loro relazione, di spostarsi a Ibiza anche per il figlio Tommaso, quindi farlo vivere in un posto anche più solare, più bello, ma Marco rifiuta categoricamente, lui invece ha una, quella che si può definire una specie di promozione di lavoro, che lo porterebbe ad Amsterdam, a bozza l'idea, ma non ha una gran presa, insomma i due per cercare un po', diciamo così, di recuperare un rapporto che ormai è chiaramente perso, organizzano quella che potrebbe essere un'ultima vacanza, ovvero andare in Norvegia, perché il figlio Tommaso vuole andare a vedere la terra dei vichinghi, durante questo viaggio fatto un po' in camper, un po' in bed and breakfast, un po' in giro, per una terra bellissima come la Norvegia dove si esalta tutto il suo paesaggio meraviglioso, i due cercano, diciamo così, cercano di riunirsi, ma forse lo strappo è ormai definitivo e quella potrebbe essere l'ultima loro vacanza, chi lo sa, e lo scoprirete guardando il film, di una commedia che sinceramente ho trovato molto deludente, deludente perché non ha brio, non ha energia, è abbastanza moscia mi viene da dire, l'alchimia tra i due personaggi secondo me non funziona neanche tanto e ho trovato più Fabio Volo, un po' fuori dalla parte, piuttosto che Vittoria Puccini che secondo me dei due è quella che regge meglio e poi in realtà questa vacanza dovrebbe essere un'occasione a prendersi ma in realtà un po' distrae, è un po' ambigua nel senso come viaggio perché sembra che soprattutto da parte del marito, ovvero di Marco, c'è in un momento l'intenzione ma dall'altra non c'è, è un po' un saliscendi emozionale e anche il finale ti lascia un po' secondo me spiazzato barra stordito perché dici ma prima mi dici certe cose poi fai un finale di questo tipo, non so un po' sembrato un po' un pasticcio e soprattutto al film oltre alla verb, l'energia gli manca incredibilmente il ritmo, ha un ritmo veramente blando, dimesso, non particolarmente accattivante e soprattutto secondo me manca anche un po' la spinta sia nella scrittura che nella regia che è una regia abbastanza semplice, di solito Michele Andreozzi nei suoi film che sono sempre del genere commedia riesce a dare qualche brio, qualche estro come abbiamo visto nei suoi film precedenti invece anche qua da quel punto di vista l'ho trovato debole e in più è a tratti molto prevedibili cioè certe battute sono alquanto scontate, quasi didascaliche se non anche ragionando su certi cliché per cui l'ho trovato un film decisamente debole che dura una novantina di minuti e che ha anche dei momenti involontariamente comici, in una fattispecie in uno c'è un incontro fondamentalmente tra Fabio Volo e un orso ecco dove Fabio Volo è da solo e si trova di fronte a questo orso e con questo orso veramente ci parla in un certo senso quindi mi ha fatto involontariamente ridere anche se in teoria la scena dovrebbe essere tra virgolette drammatica perché stiamo parlando di una commedia e quindi il risultato è proprio debole, debole, non mi è piaciuto in nessun momento dall'inizio alla fine è un film anche che vuole stimolare qualche riflessione ogni tanto viene fatta qualche considerazione sul paese dove si sta facendo questo viaggio come per dire sembra un paradiso invece magari anche loro hanno dei problemi invece noi tutto sommato stiamo bene, non so, ho trovato un film pasticciato, un film pasticciato e poi tutto questo titolone questa gran voglia di vivere, beh, tutta questa energia che c'è nel titolo io sinceramente nel film non l'ho mai riscontrato, anzi c'è secondo me una gran voglia di andare ognuno per la propria strada e chi si è visto si è visto mi verrebbe da dire per cui l'ho trovato proprio un film sbagliato, deludente e che lascia anche il tempo che trova perché una volta visto secondo me si dimentica abbastanza facilmente non so, secondo me è un film che non è venuto bene quindi si vedono abbastanza velocemente e facilmente tutti i limiti questo è quello che volevo dire in merito a una gran voglia di vivere la nuova comedia di Michela Andreozzi che vede protagonista Fabio Volo e Vittoria Puccini ed è uscito in questi giorni il suo Amazon Prime Video per questa recensione è tutto, ciao a tutti, alla prossima